e bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video qui offlate siamo praticamente attualmente c'è un evento in corso quindi se vi va passate a vederlo praticamente questo evento consiste nel ricevere oggetti durante tutta la settimana è molto carino come evento ma questo che vuole fare col cecchino sto giocando la modalità headhunter perché dà veramente tanta esperienza allora l'ho visto però lui mi farà headshot giustamente ma è solo praticamente ragazzi volevo dirvi se avete voglia di giocare a point giocateci adesso dobbiamo raggiungere 40 persone contemporaneamente siamo iscritti tipo in 2000 quindi non vi preoccupate che ce la possiamo fare mi raccomando ragazzi dovete provarci vi giocate giornalmente oppure diciamo non giornalmente ma la sera cercate di giocare cerchiamo di raggiungere il più grosso numero possibile di giocatori online cosa quello era palesemente un headshot è ciò che ho fatto tutte le mie missioni by the way non volendo il team loro è abbastanza vediamo 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 si amico si amico e tu pensi che non ti ho visto ecco qua molto bene salutate youtube amici bene bene allora delta serpents me lo ricordo non so se era il vecchio del vecchio point oppure me lo ricordo non so perché ma me lo ricordo tantissimo quel nome shit in tre però me lo fanno il culo pure bulls me lo ricordo ma ma non so se questi poi sono nomi effettivi dei del vecchio point blank italia oppure dei piercing blow non mi ricordo cazzo però mi suonano familiari come nomi dove sta dannazione su che ci ha abbandonati eccolo caos zeus benvenuto amico mio parco cazzo vabbè io sono pure scemo in culo che sto sempre lì eh però ah bene bene dobbiamo riuscire a vincere sto game ragazzi ci manca una kill io ho fede nel nostro compagno che lui ci aiuterà a raggiungere la vittoria ecco vedi vedi lui ce la fa raggiungere si oh shit cazzo mi era mancato un po' in blanco amici ultimamente sto snerdando tanto su crossfair e devo ammettere che mi era ben mancato oh shit oh shit oh shit have mercy si amico mio si porchi disco oh damn that bro chill bro oh shit avevo previsto che sarebbe accaduto qualcosa del genere oh madonna forza stiamo di nuovo in svantaggio guarda guarda adesso mi viene questo da dietro ma dai o abbiamo sentito il rumore su comunque hanno zerato l'inventario amici e io mi ritrovo praticamente senza un cazzo nell'inventario teoricamente ieri non so hanno regalato un cecchino mi pare oggi hanno regalato i coltellini però nulla che mi interessa sinceramente droppateci le aug oh shit comunque amici è uscito poi in blank per il telefono non ufficialmente in Italia e in Europa però lo potete scaricare e sinceramente stanno cioè ho visto mettono tutti eventi simili tipo che se giochi tipo per un tot di tempo al giorno guadagni robe permanenti e così via cioè ste cose se loro le faceva su point blank su pc cazzo stavano molto avanti però suppongo che i sviluppatori hanno capito che point blank su pc con tutta la competizione che c'è stava non ce la faceva sopravvive comunque che cazzo vuol dire mira veloce ok ho ricevuto 22 gettoni molto bene ho ricevuto anche un po di esperienze niente male niente male amici va bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto a me mi è piaciuto ritornare e riuscire a fare qualche game dopo un po di tempo vi ricordo ragazzi di passare assolutamente dal sito e riscattare i vostri 100 oggettoni giornalieri lascerò il link il mio video dove dove parlo un po in generale di point blank mi raccomando lasciate like il video iscrivetevi passate dai canali della mia crew e ci vedremo prestissimo con un altro video bello a tutti